Filosofa al sociologo, benvenuto al nostro Fulvio Dascola. Ciao Fulvio. Grazie, sì, è sempre molto bello ritrovarci, quindi quando parliamo insieme di cose importanti è molto bello esserci e condividere tante cose, perché la musica, abbiamo anche degli altri aspetti importanti di tutto quello che è l'arte, lo spettacolo, da una pianista che poi fra l'altro ho notato è anche molto brava e cristiana, anche la filosofa è una pedagogista, quindi stiamo abbracciando questa sera veramente delle tematiche importanti e sarà bello vivere insieme questa bellissima esperienza e quindi è molto bello essere sempre e ritrovarci insieme per dare ognuno di noi nei nostri campi dei piccoli spunti di riflessione per la gente, ma soprattutto per cercare di capire come vivere al meglio ogni momento, anche attraverso la musica, anche attraverso lo spettacolo. Ma la musica e lo spettacolo sono valvole di sfogo per le persone o soltanto un momento di crescita? Ma adesso stiamo vivendo dei momenti molto particolari, diciamo che il peggio è passato, noi ci siamo visti tempo fa quando eravamo proprio in pieno lockdown e la musica, l'arte, lo spettacolo, possono essere ambe e due le cose, sia la vola di sfogo che è un momento di crescita personale, però dobbiamo capire sempre gli aspetti e soprattutto come si vive questa tematica. Facciamo finta che io sono un artista e quindi praticamente sono un compositore, un cantautore, un musicista e magari in questo periodo ho vissuto un grande momento di crescita personale perché ho avuto il tempo, il modo, i silenzi per poter creare una musica, una melodia, una sinfonia o scrivere un testo e creare una nuova canzone, oppure come scrivere un libro che realmente è capitato personalmente. Abbiamo quindi due aspetti dell'approccio personale su ogni cosa, quindi un po' quello che fa parte della sociologia clinica, cioè del singolo che si rapporta al gruppo e agli eventi che lo circondano, ma soprattutto anche come può essere influenzato. In uno stato in cui c'è la crisi, uno stato di crisi in cui noi dobbiamo in un certo modo cercare di reagire a qualcosa, ecco che lo spettacolo, la musica per la gente può essere ambedue. È un momento di crescita personale perché in qualche modo cerchiamo di assorbire delle nuove esperienze e anche una valvola di sfogo perché attraverso la musica possiamo evadere da quelle problematiche che in qualche modo ci stanno investendo, ci hanno investito. Quindi il personalismo è molto importante, le esperienze personali sono molto importanti nelle fruizioni e nel capire se la musica, la lettura, l'arte, lo spettacolo, la filosofia, il suonare il pianoforte o l'insegnare può essere un momento di valvola di sfogo, può essere anche un grandissimo momento di crescita personale. Dipende proprio dalla propria cultura, dalle proprie situazioni personali e dal proprio vissuto. Fulvio, le canzoni e la memoria, come nasce questo processo di identificazione secondo te? Ebbè l'imprinting. Canzoni, memoria, situazioni vissute. Tutto quanto è un po' un collegamento che ci porta indietro a quello che viviamo. Io ascolto una canzone perché magari adesso lo ascolto a una fascia di età completamente diversa, in un lasso di tempo completamente diverso da quello in cui l'ho ascoltata la prima volta e mi tornano in mente quando una canzone è bella o quando è legato a un forte momento emozionale, mi tornano in mente determinate immagini, determinate persone, determinati luoghi e penso che questo capiti un po' a tutti noi e quella, la bellezza dell'arte, della musica è proprio questo, di fermare un momento, un frame della propria vita che è comunque un frame, un qualcosa che appartiene al passato e divenire sempre presente. Quindi noi, dal momento in cui ascoltiamo una canzone che ci ricorda un luogo, una persona, una situazione, una stagione, noi ritorniamo a vivere tutta quella sensazione. E devo dire che è una cosa molto bella perché la musica e l'arte non è come il linguaggio in cui c'è bisogno di conoscere praticamente la lingua, il tipo di comunicazione che ci fa comprendere uno rispetto all'altro cosa vuol dire, cioè chi emette una comunicazione e chi la riceve. La musica e lo spettacolo e l'arte ha la grande forza di entrare dentro di te senza che ci siano dei codici che sappiano in qualche modo generare una logica diversa, nel senso sono delle sensazioni che ti guidano a rivivere determinati momenti e quindi è molto molto importante quello stato emozionale che si crea ed è molto bello ed è molto anche semplice. Quando noi ascoltiamo una canzone nel ricordare un momento, ricordare delle persone, ricordare delle stagioni, io ne ho tanti di ricordi ma sicuramente ognuno di noi ha tanti ricordi nel cassetto della memoria. Cristiana voglio sapere anche da te se la musica e lo spettacolo sono soltanto una valvola di sfogo oppure un modo di crescita personale? Musica e spettacolo sono entrambe le cose, valvole di sfogo per la gente e anche momenti di crescita personale. È chiaro che io posso parlare da pianista, da musicista, la musica accompagna la mia vita e mi ha sostenuto anche in tanti momenti difficili. Però attraverso la musica io sono entrata anche in contatto con parti di mondo che non avrei mai visto, con persone che non avrei mai conosciuto e tutto questo è una crescita personale. Io credo che chi ascolti musica o comunque vada a spettacoli, sia vicino all'arte, cresce, e cresce internamente e l'arte, la musica e lo spettacolo possono essere anche uno sfogo, uno sfogo per l'essere umano, per i sentimenti, per ripeto anche a sostegno di momenti difficili. Ma la tua passione per il pianoforte come nasce? La mia passione per il pianoforte nasce da subito praticamente. Mi ricordo che ho iniziato a suonare all'età di 4 anni per due ragioni, uno perché avevo un nonno che amava la musica e non lo faceva di professione, però aveva un pianoforte a casa e quindi sono stata avvicinata alla musica a un'età molto tenera, diciamo. Secondo perché all'asilo dove andavo avevamo un maestro di musica che ci faceva lezione su delle pianoline piccole e da lì mi sono avvicinata proprio al pianoforte e è stato amore a prima vista, non ho più abbandonato il mio strumento preferito. Ma quali sono gli step più importanti della tua meravigliosa carriera, Cristiana? Gli step più importanti ce ne sono stati per quanto riguarda lo studio, perché anche lo studio fa parte della costruzione di una carriera. Lo studio per me è stato fondamentale realizzarlo non solo in Italia dove mi sono diplomata a 16 anni, ma poi anche all'estero, io sono stata al Mozarteo di Salisburgo, in Austria e poi mi sono spostata a Berlino, all'Hochschule der Künste, all'università e poi ho attraversato l'Atlantico e sono approdata a New York dove ho studiato la Manhattan School of Music. Tutto ciò è stato un cammino molto importante perché ho avuto modo di studiare con grandissimi insegnanti. Dopodiché, chiaro, le tappe fondamentali della carriera le posso riassumere in alcuni concerti chiave. Ecco, il debutto al Lincoln Center di New York è stato per me un lancio anche a livello internazionale. Non posso dimenticare il primo concerto pubblico che ho fatto all'età di 10 anni proprio al Teatro Laudamo di Messina e ci sono stati anche tanti altri concerti bellissimi all'auditorio, ma a parco della musica di Roma e in giro per il mondo in Giappone. Tutte tappe veramente molto importanti e molto belle per la mia carriera. Fulvio, si parla spesso di spettacolo, ma spettacolo è una parola ampia che coinvolge vari settori, il teatro, il cinema, la musica e concerti live. Ma che cos'è che preferisci in particolar modo tu? Lo spettacolo è un po' l'arte, un po' totalizzante, però è normale che esistano delle preferenze, le preferenze nascono da tutto quello che sei, che sei stato. Io amo la musica, per cui la musica, la radio, è quello che preferisco. La preferisco perché mi trovo in una situazione in cui attraverso la musica posso esprimere un qualcosa di me stesso, anche attraverso la radio, attraverso la voce. Ma questo nasce soprattutto dai rapporti che abbiamo avuto nel car giver, nella parte iniziale della nostra esistenza, perché cerchiamo di capire come sia molto importante in ogni percorso di ogni persona tutto quello che si acquisisce in una determinata fase. Per cui sono stato abituato ad ascoltare musica, ma magari se avessi avuto dei genitori che facevano gli attori di teatro o facevano cabaret o erano registi cinematografici, avrei apprezzato maggiormente magari il cinema. Le arti e lo spettacolo è tutto bello, è anche un po' diverso una cosa rispetto a un'altra. Devo dire che ogni porta che apre verso lo spettacolo, quindi può essere il cabaret, il teatro, anche il reading, praticamente non leggiamo un libro, una poesia con un sottofondo musicale, anche lo storytelling, l'infotainment, che sono delle nuove forme di spettacolo multimediale e nasce sempre da tutto quello che noi in quel momento abbiamo bisogno di vivere attraverso l'interazione con quelle emozioni che ci può dare la musica, che ci può dare il teatro, che ci può dare il cinema o che ci può dare anche uno show abbastanza leggero e nazional popolare. Quindi è molto bello interagire con lo spettacolo, però dipende sempre da tutto quello che noi vogliamo avere in determinati momenti e da tutto quello che noi abbiamo vissuto attraverso anche un'educazione all'arte e allo spettacolo. In questo periodo non c'è il contatto diretto, non si può fare spettacolo, sicuramente l'artista sta soffrendo, ma anche il pubblico sta soffrendo a non vedere i vari concerti, il teatro, il cinema e tante altre cose. Cambierà qualcosa secondo te nell'integrazione tra artista e pubblico? Ma il contatto diretto diciamo che è qualcosa in più di tutta questa situazione della musica, dello spettacolo senza contatto diretto, si è vissuta nella fase del lockdown, quindi speriamo di non viverla più e per cui come cambierà tutta questa situazione? È un po' cambiata e l'abbiamo visto attraverso le dirette web che facevano sui social network, su Facebook, su Instagram e anche su tutto quello che è stato fatto attraverso i canali televisivi nel concerto anche del primo maggio e in altre situazioni in cui diversi artisti del mondo, anche italiani, si collegavano dai loro studi oppure da una piazza deserta e facevano musica live. O anche ci sono molte altre forme di spettacolo attraverso appunto come dicevamo il reading o anche il teatro. Io ho assistito a un bellissimo recital attraverso un social network sulla violenza sulle donne e sul mobbing. Ecco il mobbing è un altro aspetto che viene pochissimo usato anche attraverso lo spettacolo però può far riflettere quella parte di teatro sociale che è molto importante. Diciamo che senza pubblico tutto quello che abbiamo vissuto in questa fase di lockdown abbiamo vissuto attraverso i canali web, ma anche il mondo del cinema e del teatro in qualche modo si è attrezzato facendo uscire i film non all'interno delle sale cinematografiche ma con uno streaming per cui ognuno può andare a acquistare a una cifra di 5 euro ad esempio uno spettacolo teatrale o un nuovo film che esce in streaming rispetto alla sala cinematografica. Naturalmente non è la stessa cosa, noi la normalità è quella di avere il contatto fisico e la condivisione di tutto quello che vediamo e attendiamo soprattutto di ritornare a quella che è la cosa più importante, la normalità per la condivisione delle cose belle anche attraverso l'arte e lo spettacolo. La musica la si può interpretare in tantissimi modi come momento di ascolto, come terapia o secondo te come un momento di normale svago? Direi che la musica è totalizzante, è un po' tutto, è un po' tutto quanto, sia terapia, sia ascolto e sia svago. Bisogna capire le situazioni, personalmente una volta, tanti anni fa in una scuola medio, ho creato un progetto di sociologia della musica e abbiamo creato un'orchestra all'interno di questa scuola, quindi l'orchestra già è molto importante, anche ora la pianista può essere d'accordo con me, quindi Cristiana, su tutta la situazione dell'orchestra. È molto importante perché ognuno ha un suo ruolo molto specifico, quindi magari chi ha anche delle diverse abilità capita soprattutto nel campo delle percussioni, in cui possono estradare determinata fisicità attraverso l'educazione al ritmo, iniziano a essere all'interno di un meccanismo più grande di loro in cui l'armonia, la sincronicità è molto importante, quindi in questo caso la musica diventa terapia per comunicare delle cose positive e soprattutto rapportare le diverse abilità e le criticità rispetto agli altri, però diventa anche ascolto dal momento in cui noi vogliamo ascoltare un album, un disco, cercando di capire le parole, cercando di capire i testi, cercando di capire anche la musica, studiandola un po' come il calcio, le varie tattiche. Noi con la musica cerchiamo di capire anche gli arrangiamenti, dove ti entra un violino, dove ti entra una parte sinfonica, dove la sezione ritmica ha delle caratteristiche. E può essere anche come svago quando noi cerchiamo di avere una musica in sottofondo quando lavoriamo, cerchiamo di evadere dalla quotidianità, cercando di tutta, di cercare di ballare ad esempio per far venire fuori tutte quelle che potrebbero essere delle ansie interiori. Quindi la musica, l'arte, lo spettacolo è sempre totalizzante a diversi aspetti che si vivono in base alle proprie caratteristiche, proprio di personalità e a tutto il mondo che si vive intorno e anche a tutto quello che è stato il proprio background, la propria deduzione. Fulvio, dovessi scegliere tre canzoni e tre artisti che in effetti ti rappresentano, quali sceglieresti? Beh, soltanto tre, dai, ce ne vorrebbero dieci, no? Molte, molte, molte di più. Beh, tre canzoni o tre album che ti rappresentano. Dobbiamo dire che, diciamo, rappresentare determinati momenti non è facile, però ci sono degli momenti in cui cadenzano in qualche modo la tua vita. È normale che io a una determinata fascia di età rispetto anche agli altri ospiti o rispetto agli adolescenti. Abbiamo uno spazio temporale molto migliore come scelte, anche perché la musica nei nostri anni, parliamo degli anni 70 o 80, aveva un grandissimo peso specifico. Sinceramente ho tre album che hanno tre momenti un po' diversi. Partiamo un po' da quello che è qualcosa che mi ricorda anche un periodo radiofonico, ed è un album che è questo, degli Stili Den, che casualmente è messo qui dietro, Eja. È un album molto bello che rappresenta l'eleganza, ecco, l'eleganza nel porsi, ecco, l'eleganza è molto importante, è un elemento che non è un elemento di distinzione per poter essere in qualche modo snob, però l'eleganza vuol dire anche rispetto, empatia e consapevolezza verso l'altra persona che ti sta di fronte, anche comprensione. E questo è un album molto bello, Eja te gli Stili Den, andatelo a cercare su Google o YouTube, e quindi è una cosa che mi rappresenta, ma soprattutto mi ricorda il periodo di inizio radiofonico, e parliamo del 1978. Poi ognuno di noi ha sempre una qualcosa di segreto, no? Noi ragazzini eravamo molto più ingenue rispetto a oggi, e soprattutto nelle storie, nei primi sentimenti, e quindi la melodia italiana, per me è stata rappresentata da Paolo Morelli, Gironi del Sole, no? Quindi un album come questo, Jenny, Jenny la bambola, un grande album, in cui c'è un po' l'innocenza di tutto quello che vivevamo noi nella musica e nelle canzoni italiane, quindi abbiamo da una parte un periodo radiofonico, da una parte un periodo di adolescenza, poi a un certo punto è arrivato un album, parliamo sempre di musica degli anni 70, 1971, Marvin Gaye, What's Going On? Io lo scoprì dopo, è un grande album di musica soul, ed è un concept album, un album in cui si mettono una dietro l'altra delle canzoni sulle tematiche molto importanti, qui parlavamo di guerra del Vietnam, parlavamo di fame nel mondo, parlavamo di ecologia, di inquinamento, di lotta alle droghe, era l'anno 1971, siamo l'anno nel 2020 e non è cambiato assolutamente niente. Tre canzoni sono poche, però abbiamo cercato di fare un sunto rispetto a quello che hanno in qualche modo segnato in me delle esperienze diversificate. Grazie Fulvio, andiamo subito dal nostro sociologo Fulvio Dascola. Fulvio, la musica italiana, sto parlando della musica cantautorale e i complessi, ultimamente hanno perso qualcosa secondo te rispetto al passato? È cambiata tanto, perché è cambiata tanto anche la società italiana, soprattutto è cambiata tanto la fruizione della musica, nel senso che prima esisteva una grande scuola di cantautori, c'era la volontà di ascoltare la musica, che era un momento di svago all'interno di determinate stanze, ci si ritrovava con gli amici per sentire il nuovo album di questo, di quell'altro artista, anche italiano, l'importanza dei cantautori, del rock progressivo, del pop melodico e adesso invece abbiamo una fruizione di musica molto più veloce attraverso tutto Spotify, attraverso Tidal, attraverso tante piattaforme in cui si compra meno il disco in vinile, però c'è il consumo di one shot di musica e quindi abbiamo la musica trap, abbiamo un determinato tipo di musica, anche il neo melodico, che è una distorsione di quello che potrebbe essere, però dobbiamo dire che la musica italiana comunque ha sempre una grande dignità con artisti del calibro di Brunori, artisti del calibro di Bungaro, ecco, un grandissimo cantautore conosciuto soprattutto per i testi scritti dagli altri, come Perfetti Sconosciuti, Alla Mannoia, Io Non Ho Paura, Mare e Menzo, Giuseppe Ferreri, Madi Kayanne, grandi collaborazioni con artisti brasiliani come Paolo Amore-Lenbaum, quindi Bungaro fra l'altro è un grandissimo, ecco, uno dei migliori artisti italiani del momento, però non sono mai tanto conosciuti rispetto a altri, abbiamo anche validi professionisti come Mengoni, anche come il siciliano Di Martino che io ammiro molto, diciamo che c'è tanta musica italiana buona, però è nascosta e spesso è così, in quello che si dice il mainstream, in tutto quello che è la musica radiofonica, voi, noi ascoltiamo la peggiore musica, è proprio quella che è quella commerciale, però abbiamo un grande mondo di musica italiana che è positivo, però è da riscoprire, è da scoprire attraverso i club, attraverso la musica live, io sono sempre fiducioso sulle nuove generazioni e sul futuro della musica in tutti i sensi. E in effetti cambia tutto e cambia anche la musica, so che vuoi fare una domanda alla nostra pianista Cristiana Pegoraro, prego. È molto, sì, è molto bello interagire con una pianista, è molto bello perché io amo la musica, chi l'ha amato in maniera totale capisce anche tutti i grandi sacrifici che lei ha affrontato, chi fa gli studi classici, perché essere musicista è una cosa molto seria, ecco, dobbiamo rimarcarlo e mettere proprio una linea evidenziata, un grande evidenziatore e sottolineare che la musica è una cosa seria e un grande sacrificio. Parlando di musica classica, nella suite barocca che fra l'altro è stata mutuata da rock progressivo, abbiamo i diversi ritmi di Alemanda, Sarabanda, Corrente, Giga, quindi ritmi che possono essere più moderati e più rapidi e teniamo conto che all'interno di queste suite raccontiamo cristiana agli altri come possa essere bello la musica e come possa essere unita la musica moderna alla musica classica. Ad esempio pensate che la Giga, che è uno di questi movimenti della suite barocca, ha ispirato le prime danze, è una cosa molto allegra in Piemonte, poi è stata anche la struttura ritmica di tutto quello che è la tarantella, quindi delle danze popolari. E anche l'aria sulla quarta corda di Bach è stato proprio l'intro di Wither Shadow Pale, dei Procolarum, che non è nient'altro che senza luce dei Dick Dick. Io ti chiedo proprio Cristiana, come mai questa grande voglia e volontà di studiare la musica classica, io ti ho ascoltato, ho visto come interpreti sia Bach che anche degli altri autori sudamericani e non solo, in cui c'è questa bellezza dello studio, della tecnica, ma soprattutto anche l'interpretazione, molto pathos, c'è molto pathos, ma anche molta interpretazione mediterranea, quindi nel tocco del diverso musicista. Per cui volevo comprendere qual è stato proprio il tuo input, la tua linea guida per scegliere questo percorso che fra l'altro è bellissimo, complimenti. E Cristiana, dopo aver ascoltato attentamente la tua domanda, è pronta a darti la risposta. Prego Cristiana. Bella domanda, anche molto articolata. Sì, qui voglio spostare un pochino l'attenzione su quello che è la forma nella musica, musica classica. Certamente tanta musica classica ha poi portato a composizioni di altro genere. Moltissimi artisti anche del pop, del rock, hanno iniziato come artisti di musica classica. La musica classica ti dà un po' la base, la base importante poi per andare in qualsiasi direzione. C'è tanto di forme musicali anche in una canzone pop. La forma, quello che dicevo, è così importante. Una canzone pop può venire anche da un leader tedesco del 1800. È lì che si è un po' stabilizzata la forma, la forma anche di altri brani. Abbiamo accennato alle suite barocche, l'alternanza di danze lente e danze veloci. Sicuramente la musica classica ha dato tanti spunti anche per la musica che è dopo e che noi definiamo di altro genere. Però certamente ritrovare queste radici di musica classica anche in musica pop o rock a me fa sempre tanto piacere e sono felice che la musica classica ci sia sempre. Quindi maturità di ascolto? Sì, certamente, perché ci riporta a un genere di musica sicuramente molto intenso e anche studiato, lavorato, quindi sì. Pulvio, si parla tanto di fare i concerti stile drive-in con la gente che ascolta la musica dentro le autovetture. Ti piace questa idea? Che cosa ne pensi? In effetti, dai, pensiamo alla musica che può essere fruita tipo drive-in. È un po' un problema, dai. Diciamo che l'abbiamo già vissuto in qualche modo una distorsione della comunicazione della musica attraverso il web. Noi abbiamo bisogno di fisicità, dobbiamo dirlo una volta per tutti. quello che ci manca, e l'abbiamo detto tante volte, tutti dicono manca l'abbraccio, la stretta di mano, il bacio. Noi siamo meridionali, noi siamo mediterranei, siamo molto fisici. E pensare a un concerto, visto che è un drive-in, noi abbiamo un ulteriore guscio in cui siamo chiusi, che è l'autovettura. Poi fra l'altro dovremmo avere pure i parabrezza puliti bene, nel senso che dobbiamo, in un certo senso, vedere bene, però sicuramente ascolteremo peggio, perché chiusi in un'autovettura i suoni saranno vattati. E poi soprattutto quello che manca nella situazione del drive-in, che può essere soltanto in qualche modo praticabile, secondo me, nel mondo del cinema o del film, è proprio la fisicità. Noi quando andiamo a vedere uno spettacolo, cerchiamo di circondarci, di condividere le emozioni con tutti gli altri, ad esempio chi ha vissuto le ribalte teatrali, come la filosofa che ama la musica classica, come la pianista, come te, Francesco, la pedagogista, anch'io. Cioè chi sale su una ribalta di teatro ha tutti quegli odori particolari del velluto, delle corde, di tutto l'ambiente teatrale che fa parte di una scenografia e di un campo emozionale che è fondamentale per tutti. Quindi il drive-in sicuramente sarebbe una soluzione non B, ma sarebbe una soluzione Z per condividere l'arte e lo spettacolo. Noi attendiamo i tempi migliori per poterci rivedere e godere della musica, dell'arte e dello spettacolo nella migliore forma possibile, che è quella della partecipazione, dell'empatia e della condivisione. Grazie Fulvio. So che vuoi fare una domanda a Donatella Manna, la nostra pedagogista. Prego. Sì, è vero, mi piace molto interagire stasera con tutti i vari ospiti e devo dire che hai creato un puzzle con tante tessere che si mettono insieme, no Francesco? Quindi abbiamo un percorso sociologico clinico della musica, abbiamo un percorso filosofico sull'essenza di essere se stessi e rapportarsi al mondo e abbiamo anche la grande disciplina musicale e la grande sensibilità dello studio della musica attraverso anche il suono del pianoforte, ma soprattutto abbiamo anche la figura della pedagogista che è una figura importante che bisognerebbe molto rivalutare attualmente perché c'è bisogno di educazione, di pedagogia e anche la musica in questi casi è molto importante. E quanto può essere importante nel vincere la battaglia delle diverse abilità e della interazione positiva attraverso la musica fra il singolo e il gruppo, fra il bambino e il gruppo classe, fra il bambino e il mondo esterno. Ecco, mi piacerebbe conoscere e sapere un parere della pedagogista di quanto possa essere importante la musica come terapia anche di condivisione delle diverse abilità e soprattutto di grande interazione fra gruppi. Interessante domanda a cui rispondo con vero piacere. In realtà la musica è un linguaggio universale e facilita le relazioni tra individui, in particolare sviluppa la socializzazione, stimola anche le diverse abilità cognitive anche sul piano intuitivo, completa anche lo sviluppo tenendo vive tutte quelle modalità espressive e creative. Attraverso l'esperienza musicale, l'esperienza sonora si possono affrontare anche delle problematiche dello sviluppo, penso per esempio alla musicoterapia e anche incentivare l'inclusione nel caso per esempio di diversamente abili. Ora le attività che maggiormente hanno dato riscontro, un riscontro positivo, sono sicuramente i laboratori musicali che offrono la possibilità di conoscere anche nuove strade espressive e comunicative e aiutano i bambini anche a esprimersi con il corpo, quindi a tirare fuori tutte le loro emozioni. Quindi sicuramente è un momento importante quello musicale di condivisione dove la diversità è una risorsa. Fulvio, dopo questo periodo secondo te che futuro avrà lo spettacolo? Che cosa succederà? Il futuro, diciamo che il futuro dello spettacolo post coronavirus per il momento è un'incognita, ma è un'incognita soltanto temporale nel capire quando si può riprendere un determinato tipo di spettacolo e noi possiamo comprendere come sia importante capire quanto possa essere importante il contatto tra le diverse persone, tra gli spettatori all'interno di uno spettacolo. Abbiamo in qualche modo vissuto delle situazioni di spettacolo in questa fase di lockdown, però è sempre qualcosa di monco, qualcosa a metà, perché è molto importante l'interazione per il pubblico, per il concertista, per l'artista, per l'attore teatrale, per chi fa cabaret, per chi fa uno show. È molto importante sentire dall'altra parte una risposta, un feedback, una cosa diversa per quanto riguarda il mondo del cinema e della televisione che si parte con slot di registrazione di scene o di scenografie differenti, per cui dico che già c'è un qualcosa che riguarda tutta la stagione dei concerti e anche delle rappresentazioni teatrali. È stato messo un decreto sia dal governo che dalla CIA e tutti quegli spettacoli che sono stati sospesi all'interno di tutta questa problematica del coronavirus. non è possibile rimborsare i biglietti agli acquirenti, perché praticamente sicuramente sono stati rinviati, è successo anche a me con un tour delle orme che doveva svolgersi anche al teatro Trefiletti di Milazzo, quindi gli acquirenti dei biglietti non avranno i contanti come rimborso, ma avranno un voucher che corrisponde al prezzo del biglietto. Quindi questo fa capire come questi tour saranno soltanto rimandati, però non possiamo, non si può garantire lo stesso posto acquistato con il biglietto precedente, perché non sapremo quali possono essere le disposizioni del governo, per cui si può riprendere un'attività teatrale con una disposizione diversa di posti, magari un posto e il posto accanto sarà dopo tre poltrone, oppure una fila sì, una fila no, più repliche. Ecco, diciamo che attualmente è tutto in divenire, è tutto in stand-by, però la sicurezza è quella che comunque dobbiamo ritornare a fare quello che facevamo. Sicuramente qualcosa cambierà sia nel mondo dello spettacolo, ma anche nel rapporto tra le persone. cambierà anche la società, Fulvio? Diciamo che qualcosa magari è cambiato in questa fase di lockdown, in quanto siamo stati tutti chiusi in casa e abbiamo ascoltato la musica attraverso le dirette web, che facevano gli artisti preferiti da tanti, e quindi la dirette Facebook, la dirette Instagram, ma anche tutti i concerti che abbiamo vissuto, anche il primo maggio, altre date, artisti che praticamente dalla propria casa o in altre sedi, oppure in delle piazze in cui non c'era nessuno, suonavano le loro canzoni. Diciamo che quello che cambierà nel rapporto fra la musica e lo spettacolo, sinceramente penso alla fine niente, perché secondo me la cosa molto importante, la cosa più importante della musica è quella di viverla live insieme ad altre persone, e quindi è innegabile che un'emozione va condivisa, va condivisa all'interno di un teatro, all'interno di un auditorium, all'interno di uno spazio in cui è condiviso un concerto, è condiviso una commedia, ognuno vive le proprie presentazioni in base a quello che riesce a percepire dall'attore, dal musicista, dal cantante, dal raider, dall'infotainment, oppure dallo storyteller. Quindi diciamo che quello che abbiamo passato è la fase B, abbiamo vissuto un surrogato dell'arte, dello spettacolo, perché personalmente l'arte, lo spettacolo, la musica, ha bisogno degli spazi fisici e dell'interazione, di tutta quell'onda emozionale fra colui il quale fisicamente ascolta ed è attento a qualcosa ed è influenzato anche da tutto quello che sta intorno e soprattutto è molto importante per colui il quale invece esegue per l'attore, per il cantante, per il musicista, percepire il feedback del pubblico e creare questa cosa unica, questo humus di grandi emozioni, comunicazione, empatia, consapevolezza, bellezza che l'arte e lo spettacolo sanno fare. Quindi questo è molto importante. Grazie anche al nostro sociologo Fulvio Dascola. Ciao Fulvio, complimenti. Beh, è sempre bello essere insieme. E poi è stato molto bello, è molto bello condividere delle opinioni, come dicevamo in precedenza. È un cerchio che si chiude attraverso la filosofia, la pedagogia, la musica. La sociologia della musica è clinica, la sociologia di prossimità e la filosofia. Abbiamo detto che è molto bello in qualche modo rimanere insieme e devo dire che la gente ha bisogno di cose semplici o di cose molto importanti raccontate in maniera semplice. L'unica cosa bella a cui sarebbe bello, prudente, ritrovarci fisicamente, ecco, in una piazza ed essere insieme, tutti quanti, a parlare insieme alla gente di questo. Perché comunque dobbiamo guardare sempre il lato positivo delle cose. Forse non dico che il peggio è passato, però abbiamo già sostenuto una grande prova di autodeterminazione e autogestione di grande controllo sociale. E penso che adesso, dopo questa fase di stand-by, meritiamo tanto. Passerà un po' di tempo, ma sicuramente ci riprenderemo tutti gli spazi. Grazie a te Francesco e grazie a tutti anche gli altri ospiti per questa bella condivisione che abbiamo avuto. Ricordiamoci che è sempre importante agire per, agire sempre insieme, mai con l'individualismo. Cioè non esiste mai io contro, ma per me dovrebbe sempre esistere, anzi per tutti noi, noi per. Grazie e ancora grazie per l'opportunità.